Napoli si prepara alle elezioni che segnano il passaggio di testimone dopo il decennio targato Luigi De Magistris. Schierato un esercito di 4.000 aspiranti consiglieri, partiti e movimenti hanno atteso l'ultimo giorno per presentare tutte le liste all'ufficio elettorale del comune a Soccavo. Caos, tensioni e polemiche, sei liste a rischio esclusione. In Lizza, Gaetano Manfredi, sostenuto da PD 5 Stelle e centrosinistra, proprio per l'ex ministro lunedì tornerà in città Giuseppe Conte. L'ex presidente del consiglio fa dunque tappa nuovamente a Napoli, dove i 5 Stelle puntano ad un risultato importante. Nel centrodestra il PM Antiglan, Catello Maresca, che punta al ballottaggio, è sostenuto da tutti i partiti della coalizione, anche se non sono mancate tensioni. Soprattutto in casa Fratelli d'Italia, con la rissa tra Nonno e Diodato finita in denuncia. Alessandra Clemente si farà invece portatrice delle stanze di continuità dell'attuale gestione. L'assessore schierata agli altri anche l'astrofisico tedesco dell'osservatorio di Capodimonte, Thomas Adolf Strauss. Cinque invece le liste a sostegno di Antonio Bassolino, presentate al cinema modernissimo. Tra queste anche quella del partito gay LGBT. Nelle ultime ore spazio anche per un altro aspirante sindaco, Matteo Brambilla, già in corsa nell'ultima tornata elettorale, questa volta in campo con i dissidenti del Movimento 5 Stelle. E non mancano le sorprese. Nella partita saranno anche i Novax, che hanno presentato come candidato sindaco il biologo Giovanni Moscarella. Competizione agguerrita anche a Caserta, dove i principali antagonisti sono l'uscente Carlo Marino, sostenuto dal centrosinistra, e Giampiero Zinzi, esponente della Lega del centrodestra. In campo anche l'ex sindaco Pio del Gaudio. Illizza inoltre i civici Romolo Vignola, Raffaele Giovine, Enrico Ronzo e Ciro Guerriero.